Di due mesi dalle elezioni amministrative anche i commissari di Saint-Pierre guardano al voto. Dopo oltre due anni di lavoro nel comune, sciolto per mafia in seguito all'inchiesta Genna, la probabile presenza di più liste è vista come un elemento positivo. Positiva è la presentazione probabilmente di più liste, comunque questo fermento, che è la dimostrazione che c'è fiducia in un cambiamento. Io credo che questo sia da registrare, me lo auguro, insomma ce lo auguriamo tutti noi. Al momento sono tre le liste pronte a partecipare al confronto, dai commissari però arriva anche un monito. Il programma è importante ma attenzione alla composizione delle liste, perché il pericolo c'è sempre, ma non è perché siamo a Saint-Pierre, il pericolo dell'infiltrazione della criminalità organizzata c'è sempre in qualsiasi zona d'Italia, non soltanto le regioni a penetrazione tradizionale. Al nord c'è un interesse particolare, c'è una modalità molto più subdola, silente e strisciante di inquinamento delle strutture amministrative dei comuni e in generale delle pubbliche amministrazioni e di conseguenza bisogna avere una particolare attenzione, antenne sempre alzate. Grazie. 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 Grazie.